Se hai ricevuto un problema riguardo all'avvio di Fortnite e riguardo alla Keychain, vuol dire che ci sono delle firme digitali non installate nella sua cartella e quindi non ti danno proprio il permesso di accedere a Fortnite. Quindi vai direttamente sui tre puntini, vai su gestisci, entra così nella sua cartella, vai su Fortnite Game, Binary's, W64, scendi fino a giù fino a trovare così, Fortnite client, W64 shipping, mostra attropazioni, proprietà. Firme digitali ed eccole qua. Lunedì 14 ottobre, installo questo, lunedì 14 ottobre 2024, visualizza certificato, installa certificato, utente corrente, faccio avanti, fine e faccio ok. Installa certificato, computer locale, faccio avanti e faccio sì. Faccio avanti, fine e importazione completata e faccio ok. Una volta fatto, chiudo un attimo questa cartella, chiudo anche Epic Games, assicuro di che Epic Games sia chiuso anche su gestione attività, quindi tasto destro sopra, su gestione attività, lo termini, quindi termini l'attività e riapri Epic Games, libreria. Se non dovesse funzionare ancora, puoi semplicemente disconnetterti dal tuo account Epic Games, rifare di nuovo l'accesso. Se non funziona ancora, vai sui tre pontini, fai gestisce e fai una verifica al gioco. E reinstalla di nuovo le firme digitali. Adesso avvio Fortnite. Ecco che Fortnite si è avviato, quindi è avviato senza nessun problema. Quindi, se hai ricevuto altri errori su Fortnite, c'è una playlist intera in alto a destra nelle schede. Se hai problemi, commenta sotto al video. E noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.